Tornano in libreria l'originalità, la freschezza, lo stile, la comicità e anche l'approfondimento di Antonio Pennacchi. Il libro edito da Mondadori si intitola La strada del mare. Antonio Pennacchi, qualcuno si ricorderà forse la imprecazione maledetti i conti Zorzi Vila, che era l'imprecazione che la numerosissima famiglia Perruzzi, nonni, bisnonni, nipoti, zii, figli, tutti quanti, insomma decine di persone, questa maledizione la famiglia la proferiva anche quando poi migrò, perché Canale Mussolini, il libro uscito dieci anni fa, che vinse subito il premio Strega ed ebbe grande successo un bel romanzo, in Canale Mussolini Antonio Pennacchi raccontava in modo autobiografico, ma poi con tutta la finzione, la vicenda bella, piena, anche drammatica di migliaia di persone, lì incarnate nella famiglia Perruzzi, migliaia di persone che alla fine degli anni venti Mussolini aveva, non dico costretto, invitato ad emigrare a sud, perché erano così poveri questi qua, contadini sfruttati, nel Veneto, nel nord-est italiano, li avevano invitati a far fortuna e a partecipare alla ciclopica opera della bonifica delle paludi pontine, l'agropontino, dove adesso c'è Latina, dove è nato Pennacchi, prima si chiamava Littoria, un nome fascista, e fra le poche cose riuscite a Mussolini, dopo tutte quelle tremende sbagliate, ci fu la bonifica dell'agropontino. Allora queste migliaia di veneti emigrarono giù e hanno cominciato a vivere lì e il romanzo Canale Mussolini raccontava questa odissea e questi qua che portavano giù la loro lingua, il loro dialetto veneto, anche i loro riti, le loro tradizioni contadine, è innestato il tutto dentro il centro Italia, sul mare davanti a Roma. Poi ci fu Canale Mussolini 2, tre anni fa, che aveva bagliori di vena ancora vivida e divertente, ma c'era un po' troppa roba, troppa storia, troppa cronaca, un po' troppo didascalico, troppo documentario e quindi c'è una certa delusione da parte nostra di fronte a questo Canale Mussolini 2, ma adesso è uscito questo La strada del mare che ci riconsegna tutta la freschezza di Pennacchi. Siamo ancora con i Peruzzi, siamo a Latina, negli anni 50 poi andando su c'è comicità, c'è divertimento, c'è tenerezza, c'è commozione, c'è anche una sincera, onesta, originale ricostruzione di un pezzetto di storia italiana e le vicende di questi Peruzzi, tipo la famiglia dello zio Benassi e della zia Pace con la loro nidiata di figli e nipoti, lo zio Adelchi che si chiama lo sceriffo perché fa il vigile urbano lì a Latina e tutti quanti gli altri e ancora riecheggiano echi di dialetto veneto dopo tanti anni e resta l'imprecazione, maledeti i conti Zorzi Vila perché i conti Zorzi Vila lassù nel Veneto negli anni 20 erano degli autoritari e avari e sfruttatori nobili che torchiavano a questi contadini, fu anche per colpa di loro che questi contadini accettarono la sfida di migrare per sempre. Qui ci si diverte, si pensa e c'è uno sfondo italiano che vale la pena di conoscere.